Se non liberiamo risorse, rischiamo di mandare in default la provincia con l'immediata e diretta conseguenza di non poter più pagare Veneto Strade e mettere così in difficoltà l'azienda e i suoi lavoratori. E' la prospettiva tracciata dal presidente Roberto Padrin, a margine dell'incontro a Villa Pat con l'assessore regionale Elisa De Berti sulla situazione della società partecipata. Si è parlato della riclassificazione del Cune Arterie, della cronistoria e del taglio dei trasferimenti statali a Palazzo Piloni e anche del futuro impostato per Veneto Strade. Si punta sempre a far entrare ANAS nella società così da salvaguardare il patrimonio della rete stradale, mantenere la gestione attuale senza soluzione di continuità rispetto a quanto avviene oggi e contemporaneamente liberare risorse nel bilancio della provincia. Al momento però questa partita è bloccata dalla necessità di approfondimenti sotto il punto di vista giuridico ed è stata predisposta una convenzione tampone in scadenza il 31 dicembre 2024 per consentire a Veneto Strade di continuare la gestione e chiedere ad ANAS di versare le risorse per la manutenzione di chilometri tornati sotto proprietà statale. Per noi vale quanto scritto nelle premesse della convenzione che abbiamo approvato, ovvero che si intende gestire in maniera unitaria il reticolo di strade, spiega Padrin. Crediamo che debba essere assicurata continuità nella manutenzione con il soggetto Veneto Strade che negli anni si è dimostrato un ottimo sistema di gestione per territorialità ed economie di scala, ma riteniamo che l'accordo con Regione e ANAS sia un modo per continuare a dare lavoro e operatività alla società.